Le naadi ad oggi sono chiuse, lo vediamo nelle immagini. Il prossimo futuro appare incerto stando a quanto denunciato questa mattina dal PD e dai gruppi di centro-sinistra del comune di Pescara. Tutto ruota intorno all'individuazione della società che dovrebbe avere la gestione temporanea della struttura, il club acquatico Pescara. Il club acquatico era parte di naadi 2020, insieme a altre tre società ha gestito le naadi tra il 2019 e il 2021. Noi naturalmente non abbiamo niente nei confronti del club acquatico, però ci chiediamo come si può sottoscrivere una convenzione con loro sapendo che ci sono due cause pendenti di fronte al tribunale di Pescara tra la regione Abruzzo e questa società. Una per quanto riguarda dei lavori con la Corle Ruori e SRL e una per quanto riguarda 120.000 euro che la regione Abruzzo, proprio il dirigente del servizio sport e turismo della regione Abruzzo, ha chiesto a questa società per dei debiti. Naturalmente non sarà possibile, ecco perché ci chiediamo e sottolineiamo che è stato fatto un ennesimo pasticcio. Poi ci sono ancora altri dubbi che abbiamo. Il primo è questo. Come fa l'agenzia di committenza della regione Abruzzo, che era stata incaricata soltanto per il bando ventennale con una delibera di giunta, a fare un affidamento provvisorio di quattro mesi di una struttura che non è propria. Come fa a scegliere un solo soggetto? Come fa a scegliere la trattativa diretta? Su quali introiti conta il club acquatico per la gestione di un quadrimestre? Rimarca Blasioli non c'è dato saperlo. Non vogliamo credere alle ricostruzioni di chi da tempo insinua che il bando sia stato strutturato proprio per andare deserto e poter quindi favorire a settembre la presenza dei soggetti in questione. E poi c'è un vero e proprio problema che riguarda le date. Ci sarebbe una PEC di club acquatico arrivata il 31 di luglio, cioè il giorno della data di scadenza delle precedenti offerte per la gestione ventennale, secondo noi anche fuori termine, quando invece la determinazione con cui era stato scelto di spostare il termine dal 31 di luglio al 18 di settembre è addirittura del 27 luglio, cioè precedente a quella PEC. Ancora una volta notiamo tantissimi punti che andranno chiariti, andranno chiariti in una commissione di vigilanza che con il collega Paolucci oggi stesso richiederemo.